A Sant'Ermete Stadium va in scena la decima del campionato di promozione Romagna-Girone. I padroni di casa sono alla ricerca della mannita per proseguire la loro striscia utile di risultati consecutivi dopo quattro pareggi. La formazione di Mancini cerca questa volta i tre punti. Il Misano dall'altra parte nel precedente turno ha forse messo in vetina la migliore prova di stagione liquidando la stella con un sonoro 3-0. Arbita la gara Joelle Cacchi della sezione di Cesera coadiuvato da Marco Cattani e Norman Libassi della sezione di Forlì. Avvio in quinta per il Sant'Ermete che mette subito alla prova i riflessi di Francesco Magri con la conclusione di Fuchi per l'ex Almagna, terza divisione argentina, la prima parata del match. La replica del Misano tre minuti più tardi. Azione manovrata, apertura sull'auto di sinistra, tiro di Mussoni, gran parata di Barbanti. La partita non riserva particolari emozioni, ci prova a questo punto la distanza ravaglia. Magri blocca senza problemi. Comoda presa anche dall'altra parte a cura di Barbanti sulla conclusione di Chiusano. Dalla distanza ci prova anche Miguel Angelo Dero ma la sfera termina alta. Pasolini prova a pungere come sempre ma viene fuori una comoda chiamata per Magri. Stessa cosa dicaci per Barbanti impegnato su questa sortita offensiva concursosi con il tiro debole di Nigro. Squadre a riposo sullo 0-0. Nella ripresa tra il tredicesimo e il quindicesimo arrivano le prime due concursioni per il Sant'Ermete. Dall'angolo Pasolini di testa spaventa la porta difesa da Magri. Successivamente ci prova dalla distanza senza fortuna. Il Misano replica con l'apertura di Nigro in favore di Londero. Concursione fuori misura a cura del numero 3 ospite. Lo stesso Londero poco dopo mette al centro un traversone spizzicato di tacco da Chiusano. Sfera fuori misura. La punizione Antonelli prova a colpire ma la palla è lontano dallo specchio della porta. Pasolini sull'alto versante lotta dannatamente ma non trova pertuggi con Fuchi che interviene rubando tempo e sfera ma non riuscendo a inquadrare lo specchio della porta. Nel finale l'ottantanomese con Gacovicai ha penetrato calcia alto mentre dall'altra parte il Misano crea la sua palla migliore con il tiro angolato a cura di palestini barbanti a buona guardia. Nell'extra time Andrea Brighi dice qualcosa di troppo a direttore di gara che estrae da subito il cartellino rosso. Non succede più nulla con le due squadre che portano a casa un punto per parte.